Musica Vi invitiamo ai nostri Agri-Nic Scusa? Cosa? Il picnic in agriturismo con il sacchettino di Valgrande Preparato con i nostri prodotti di corte E quando? Allora, mercoledì 25 aprile, una giornata dedicata ai giochi di una volta O martedì 1 maggio, dedicata ai giochi con i colori Vi invitiamo a visitare il nostro sito per avere maggiori informazioni O a contattarci telefonicamente Vi aspettiamo! Ciao!